Ciao a tutti ragazzi, io sono Daniel e bentornati su Progetto. Nel video di oggi andremo a vedere una tecnica di supervised learning che ci permetterà di andare a distinguere nel dataset minist i vari tipi di numeri che vengono scritti. Andremo quindi ad allenare un classificatore bayesiano passandogli un training set da 60.000 esempi e successivamente lo andremo a testare con un test set da 10.000 elementi. Il classificatore bayesiano è un classificatore probabilistico. Consideriamo che il nostro dataset sia composto da un insieme di esempi associato a un insieme di classi. L'insieme degli esempi lo chiamiamo x e l'insieme delle classi lo chiamiamo c. Ecco, ipotizziamo di conoscere la probabilità che un esempio x appartenga alla classe c. Chiamiamo questa probabilità pi greco c. E ipotizziamo anche di conoscere la densità di probabilità che un vettore di questi esempi qui appartenga alla classe c. E questa la chiamiamo phi c di x. Ecco, il classificatore bayesiano è dato dal rapporto tra phi c di x che moltiplica pi greco c fratto la sommatoria dato un c' appartenente ad y di phi c' x per pi greco c'. Questa diciamo che è la definizione probabilistica, però a noi in questo caso ci interessa andare un po' spulciare quelle formule che magari ci permettono di andare a implementare appunto nel nostro codice il classificatore. In particolare avremo bisogno di una funzione di likelihood la quale ci dice fissata una classe c quanto è probabile osservare l'evento x o l'evento x i. E avremo bisogno anche di una probabilità a priori che insomma fissato un elemento x i ci dice quanto è probabile che questo elemento x i appartenga alla classe c. Ecco, una volta conosciute la prior e la likelihood siamo in grado di calcolare la probabilità a posteriori e siamo in grado di calcolarla appunto utilizzando la regola di bayes. Ovviamente il risultato migliore che possiamo ottenere da questa classificazione è dato dal largmax sulla probabilità a posteriori. Quindi largmax data una classe c appartenente ad y di phi di c di x per pi greco c. Per poter utilizzare però questo classificatore diciamo che abbiamo bisogno di una regola fondamentale ovvero la regola iid ovvero che i dati devono essere identicamente e indipendentemente distribuiti. Questo classificatore ha il vantaggio di essere veramente semplice da implementare e abbastanza veloce a classificare. Purtroppo non in tutti i casi ha un'accuratezza molto interessante però è conveniente provarlo ad utilizzare soprattutto all'inizio quando si inizia a lavorare su un problema, si vuole iniziare a utilizzare il machine learning di conseguenza implementare il bayes naive è molto veloce. Se si ottengono buoni risultati si può anche pensare di utilizzarlo. Se invece fa schifo nella classificazione pazienza ci abbiamo messo quella mezza giornata a implementarlo quindi siamo in grado di andare a valutare altri metodi di classificazione che vedremo nei prossimi video quindi iscrivetevi al canale per non perderli. Intanto se vi è piaciuto questo vi chiedo soltanto di lasciarci un like. Quindi a questo punto finita la parte teorica in realtà potremmo andare avanti ancora per un po' però diciamo che più o meno così dovrebbe essere sufficiente per implementare il nostro algoritmo quindi dirigiamoci al computer. Bene eccoci qui scusatemi per la pessima qualità dell'audio non so perché ubuntu registri con un audio del genere. Utilizzo sempre bs che lo uso anche su windows quindi è un po' strano però vabbè su ubuntu un po' è così su linux. In ogni caso ora vi faccio vedere come scaricare mnist perché come vedete io ce l'ho qui probabilmente quando farò la push su github del progetto potrete anche scaricarlo direttamente da lì così avete già mnist. In ogni caso questo è il sito dove ho scaricato appunto vedete il dataset cliccate qui gli scaricate tutti gli mettete dentro a una cartella gli andate ad estrarre e successivamente vedete che qui c'è un idx 3 ubite questo sarebbe punto idx 3 ubite togliete il punto mettete il trattino perché poi dopo andiamo in terminale e scriviamo pip3 install python mnist che è una libreria che ci rende più facile acquisire importare il dataset dentro al nostro progetto oltre a questo naturalmente ci servirà matplotlib che dovrete installarla e numpy perché andremo implementare il modello con numpy per utilizzare la libreria mnist dovete scrivere from mnist import mnist maiuscolo una volta fatto questo andiamo a creare la classe del nostro classificatore e dentro al costruttore della classe io ho utilizzato due parametri perché ho voluto anche implementare la gaussiana purtroppo la gaussiana ha dei problemi quindi dovrò metterla a posto quindi non ci concentriamo tanto sulla gaussiana ma sul classificatore normale naturalmente se scaricate questo da github potete provare la gaussiana vi dico già il problema che ha la gaussiana così se qualcuno magari è un po più esperto di me mi può scrivere qui sotto nei commenti perché non funziona in ogni caso sostanzialmente la gaussiana la utilizziamo a calcolare la likelihood e il problema è che sostanzialmente la matrice della likelihood ha dei valori che tendono a zero siccome la gaussiana fa utilizzo del logaritmo e probabilmente al logaritmo vengono passati dei numeri piuttosto piccoli in ogni caso abbiamo un altro flag che verbose che ci serve per queste print quindi vedete if self verbose poi andiamo a printare oltre a questo noi ci andiamo a salvare le classi ci andiamo a salvare il numero di classi quindi abbiamo dieci numeri quante saranno il numero di classi 10 naturalmente e le classi quali sono 0 1 2 3 fino a 9 l'eps praticamente è un numero che ci dice l'errore del nostro calcolatore nel svolgere i calcoli in sostanza in particolare i calcoli come vedete in float 32 in ogni caso ci prepariamo un vettore per le priors un vettore per le likelihood e poi ne ho preparato uno anche per le gaussiane però quello lì non ci interessa una volta finito il costruttore andiamo a definire la nostra funzione di fit la funzione che va ad allenare il modello a questo dobbiamo passare ovviamente self perché stiamo creando una classe poi gli passiamo xtrain l'insieme degli esempi di training che sono 60 mila e l'insieme delle labels quindi l'esempio 1 sarà associato a una labels 1 se l'esempio 1 è un'immagine del numero 1 ovviamente anzi facciamo l'immagine del numero 5 il primo elemento allora del y train sarà 5 quello che succede in sostanza gli passiamo una foto la foto del 5 gli diciamo questo è un 5 passiamo la foto del 2 questo è un 2 e lui a mano insomma si inizia a imparare i numeri no lrmi e lr sigma li utilizziamo nella gaussiana per modificare un po' i parametri di media e varianza in ogni caso andiamo a prenderci le classi in più in sostanza la distribuzione ad esempio per la classe 1 ci dirà che ci sono 5.400 elementi così per la classe 2 classe 3 eccetera eccetera infatti poi qui abbiamo una print che ovviamente self classe conterrà 10 elementi la classe 1 ad esempio 5210 elementi e così via una volta fatto questo vado a calcolare la probabilità a priori quindi andiamo ad assegnare naturalmente a self n classes la lunghezza di self classes e poi la probabilità a priori è dato da counts fratto il numero totale degli elementi del training set shape è un vettore shape di zero in questo caso contiene appunto gli elementi numero degli elementi del data set mentre la shape di 1 la shape di 2 è 28 e 28 perché appunto queste immagini sono di dimensione 28 per 28 naturalmente il nostro data set è un tensore anche qui se mettiamo verbose la classe tac ha priorità tac cioè ha probabilità a priori di quello poi dopo metterò verbose ve lo faccio vedere in ogni caso per comodità mi sono preso n che è dato dal dalla shape di zero che in questo caso sarà 60.000 per svolgere i calcoli naturalmente e in un ciclo che va a ciclare sul numero delle classi quindi andiamo a farlo per ogni classe andiamo a calcolare la likelihood se è gaussiana ovviamente utilizzato la formula della gaussiana quindi poi mi sono calcolato mu e sigma che in realtà è sigma quadro poi vado a calcolare la probabilità sulla distribuzione e poi ci calcolo la likelihood che la vado ad aggiungere alla lista questa qua poco importa se trovate qualche errore scrivetemelo qui sotto nei commenti mentre per quanto riguarda la probabilità normale semplicemente andiamo a fare una media per tutti gli elementi di x train che appartengono alla classe i sull'asse 0 qui ovviamente non facciamo la print perché sono matrici 28 per 28 quindi viene un po' un casino nel terminale ecco una volta fatto questo noi abbiamo già creato il modello quindi capite perché questo dato perché questo classificatore è facile da implementare notate una cosa la probabilità a priori è un numero mentre la likelihood è una matrice 28 per 28 questo classificatore si dice anche generativo perché appunto tramite la likelihood vedremo che potremmo generare appunto dei nuovi esempi dopo capirete il perché perché vi farò vedere anche come è fatta la likelihood andando invece nella funzione di predict che è la funzione che utilizziamo anche per testare il nostro modello andiamo sempre a prendere n che è dato dalla shape di 0 di x test come vi ho detto x test è un vettore creato con numpy e la probabilità shape ci restituisce appunto le dimensioni del nostro vettore prendiamo la prima che è quella che ci restituisce il numero di elementi del dataset andiamo a fare un reshape di x test perché ci viene magari più comodo utilizzarlo non in forma di matrice ma in forma di vettore quindi la shape che avremo alla fine sarà data da 60 mila e 784 che dovrebbe essere il prodotto tra 28 per 28 quindi non c'è niente di strano ve l'ho scritta anche in modo molto chiaro che abbiamo qui il vettore del quale vogliamo fare il reshape e poi gli passiamo la shape di 0 che la vogliamo mantenere e andiamo a collassare shape di 1 e shape di 2 ecco qua c'è un errorino qua ci va 2 in ogni caso essendo 28 28 per quello non mi ha dato errore naturalmente dopo poi sarà numpy che appunto si occuperà del reshape andiamo a inizializzare un vettore di risultati con np zeros che sarà un vettore di zeri in realtà questo sarà un tensore dato dal numero di elementi n i 60 mila e il numero di classi ecco una volta fatto questo per ogni appartenente sempre alla ennesima classe andiamo innanzitutto a prendere la likelihood che se è la gaussiana prendiamo la likelihood gaussiana se no prendiamo quella normale una volta fatto questo dobbiamo fare anche il reshape della likelihood naturalmente se questo ce l'abbiamo 60 mila per 784 ecco non è che qui possiamo usare 60 mila e 28 per 28 vi ricordo che l'elemento singolo likelihood è 28 per 28 non è 10 per 28 per 28 una volta fatto questo andiamo a calcolarci la probabilità le probabilità che è dato dalla somma del logaritmo della likelihood per x test più l'eventuale errore di calcolo e questa somma la andiamo a fare sull'asse 1 quindi sull'asse di 784 elementi una volta fatto questo andiamo anche a sommare alla probabilità il logaritmo della prior questo in sostanza perché non vogliamo che il nostro classificatore si vada imparare a memoria quindi vada in overfitting nel fare il training del nostro dataset e quindi tramite la regola naive andiamo ad aggiungere la probabilità a priori che insomma va a modulare il modello finale ottenuto dopo la fase di training una volta fatto questo andiamo ad aggiungere la probabilità al nostro vettore di risultati ed infine andiamo a restituire l'arg max come abbiamo detto prima dei risultati sull'asse 1 qui c'è la print likelihood che se la volete utilizzare vi fa vedere appunto le likelihood dopo la utilizzeremo ecco e qui è finito il nostro modello poi quello che ci manca da fare è tirare dentro il nostro dataset che è mn data dato da mnist dentro le parentesi gli passate il path full path di questa cartella quindi prendete questo e lo incollate qui successivamente x train list e y train list sarà dato da load training ed x test list e y test list sarà dato da load testing ecco una volta fatto questo siccome queste sono liste di python e non vettori di numpy andiamo a creare dei vettori numpy e poi penso che li tiri dentro con una shape di 60.000 per 784 invece ci viene comodo utilizzarli anche come sotto forma di immagini 28 per 28 quindi andiamo a per ogni elemento presente nel train list infatti ci mette un pochino fare questa fase qui va a fare il reshape e poi lo converte in che poi in realtà sarebbe già a no perché una list comprehension per sicurezza la list comprehension la passiamo un numpy array così siamo sicuri di avere un numpy array questo sia per x train che per x test successivamente anche y train e y test li castiamo a numpy array quindi abbiamo solo dei numpy array in questo momento il dizionario delle label invece è dato da dalle label del nostro dataset quindi sarà 1 1 2 2 fino a 9 9 partendo da 0 0 che me lo sono dimenticato ecco una volta che abbiamo tirato dentro il nostro dataset andiamo a istanziare il nostro classificatore e andiamo a passargli x train e y train al fit quindi andiamo ad allenarlo vedrete che è piuttosto veloce allenarlo e poi andiamo a fare una prediction in realtà più predizioni perché gli passiamo tutto il test set costituito da 10 mila elementi la predict la predict ci restituirà delle predizioni io ci ho messo anche il retur count così da vedere appunto la nostra distribuzione di predizioni che la vedremo qui e la cura si sarà data dalla somma di np in totto delle predizioni che sono uguali a y test fratto la lunghezza ovviamente di y test qui andiamo a mostrare l'accuracy e poi una volta fatto questo semplicemente andiamo a generare un numero random tra 0 e la dimensione del nostro test set andiamo a prendere un numero a caso quindi un'immagine a caso dentro del test set e andiamo a vedere se riuscite a indovinarla oppure no quindi ora che abbiamo fatto questo questo facciamo così se volete utilizzare la gaussiana potete fare mettere un true qua e un qua false se non volete il verbose se no mettete true io voglio il verbose e non voglio la gaussiana quindi faccio così andiamo quindi a lanciare il nostro codice vediamo cosa ne esce ecco ci sta mettendo un po perché come vi ho detto era bloccato lì qui abbiamo dunque la prima likelihood sta mostrando queste likelihood quindi chiudo questo questo è l'uno questo è il due eccetera eccetera ce le mostra proprio tutte come vedete l'accuracy è del 64 per cento 64 e mezzo qui probabilmente ho fatto una print delle likelihood che appunto vedete che non è conveniente printarle all'inizio come ho detto invece qui abbiamo la classe 0 a 5923 elementi eccetera eccetera di conseguenza una volta calcolate le prior vedete che qui abbiamo tutta la distribuzione delle priors che naturalmente la somma delle priors essendo una probabilità deve dare uno qui mi è scappata appunto la print di probabilmente una likelihood in ogni caso ci ritroviamo qui con questa predizione questa magari sbagliata quindi proviamo a rieseguire il nostro modello qui mi sono dimenticato di togliere verbose adesso lo togliamo ed ecco appunto che se gli andiamo a mostrare un 1 ci fa la eseguirlo anche in questo caso il numero in teoria dovrebbe essere un 7 se andate a vedere i numeri di questo dataset non è che siano scritti proprio bene in ogni caso vedete che è il numero 7 ci predice 7 torniamo ad eseguire questo qui in teoria sarebbe il numero 6 e effettivamente ha indovinato che è il numero 6 torniamo ad eseguire per un'ultima volta e anche qui ha ricevuto in ingresso qualcosa che sembra il numero 4 e l'ha predetto giusto naturalmente può darsi che tornandolo ad eseguire restituisca un valore sbagliato perché come vedete abbiamo un'accuratezza del 64 qualcosa per cento quindi diciamo che è poco sopra dall'accuratezza di un modello che predice in modo random qui stranamente gli sta indovinando praticamente tutti ma in ogni caso abbiamo visto che non è un'accuratezza vedete appunto questo qua che è un 9 ha predetto 8 quindi ogni tanto si sbaglia quindi ragazzi visto che questo classificatore è piuttosto semplice io vi invito ad andare a provare a svilupparlo vi ho mostrato il codice eventualmente lo scaricate da github lascerò qui sotto il link in descrizione ed eventualmente potrete potete provare a modificarlo e adattarlo su un dataset magari completamente diverso in ogni caso sapete che dovete calcolarvi la probabilità a priori la likelihood e successivamente andate a calcolare la probabilità a posteriori e ne prendete l'arg max quindi se avete trovato utile questo video o vi è piaciuto o volete supportarci lasciateci un like iscrivetevi al canale per non perdervi assolutamente le puntate successive se attivate la campanellina vi arriva la notifica scrivete qui sotto nei commenti per eventuali domande osservazioni seguiteci anche sui nostri social come instagram e facebook e noi ci vediamo nella prossima puntata ciao